la campania si è assicurata un'altra settimana in giallo nonostante i numeri ancora fotografino una regione alle prese con contagi e decessi le imprese del settore commerciale della ristorazione tirano un lungo sospiro di sollievo nella speranza di continuare a recuperare le perdite stratosferiche dovute al lockdown l'attesa comune è per la liquidità derivante dal piano ripartenza e resilienza che a quanto pare non tarderà ad arrivare la riconferma del colore giallo per la campania significa anche boccata di ossigeno per imprese lavoratori e famiglie c'è bisogno comunque anche di un aiuto istituzionale dello stato ricordiamo che le perdite subite da marzo 2020 ad oggi sono state enormi i sostegni e gli aiuti sono stati molto insufficienti dobbiamo sperare che arrivino presto i soldi del piano nazionale riprese e resilienza ricordiamo che alla campania spetteranno 22 miliardi sono tanti soldi dobbiamo soltanto sperare che le nostre istituzioni sappino investirle perché ricordiamo a me che la campania spesso è stata costretta a restituire per incapacità gestionale i fondi provenienti dall'europa se il video ti è piaciuto lascia un mi piace iscriviti al canale e clicca sulla campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato non è stato un po' più no 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 no